Ma qualsiasi persona che perde un proprio caro, che cosa può provare in quel momento in cui lo perde? Ognuno di noi ha avuto magari la perdita di un proprio caro per morte naturale. Provate a pensare come si potevano sentire queste persone, queste famiglie, dopo aver perso per morte violenta, per morte tragica. Quale profondo disagio, quale distruzione vera e propria all'interno della propria anima possono aver avuto queste persone. E soprattutto l'attività persecutoria del regime fascista italiano dall'inizio, cioè a partire dalle leggi razziali del 1938 a cui accennava prima. Roberto. Per cui parto da lì. E quello che è visibile, io ho indagato molto negli archivi comunali, perché è una fonte che credo sia stata... Ho toccato dei documenti che penso che dal 1945 che non venivano più toccati. E per l'emanazione delle leggi razziali, qualche mese prima, il regime ha chiesto ai singoli amministratori dei comuni di fare un censimento sulla popolazione ebraica presente nel loro paese, fornendogli di un modulo. E questi moduli li ho trovati tutti praticamente... Ovunque c'è in un archivo comunale un settore, un faldone che riguarda quell'epoca e quell'argomento, c'è sempre quel modulo lì. Quindi mi ha permesso, insieme, integrandolo con altre fonti, di ricostruire un po' chi erano, quanti ce n'erano in Brianza.